Comunque poi finalmente lei entra nella squadra di Giovanni Minoli che le insegna, come dice lei, proprio il mestiere lei si segnala per delle inchieste, dei reportaggi importanti per lo scoop di Andreotti ha dormito in macchina, l'ha aspettato mentre andava a messa quando aveva appena ricevuto l'avviso di garanzia poi Michele Guardi la nota e diventa, diciamo, la sua svolta nella conduzione diventa il conduttore dei fatti vostri tantissimi altri programmi fino a che non arriva l'Arena l'Arena cresce negli ascolti, diventa un programma importante comincia a diventare scomodo per molti fa 4 milioni, viene chiuso dalla Rai ma lei dice che il mandante è un altro il mandante è politico, no? Chi è stato? Cioè lei è un uomo libero, no? Oggi lei può dirlo chi ha voluto veramente a livello politico la sua chiusura? Intanto la Rai è fatta di tante persone non mi ha mandato via la Rai io credo che la Rai se avesse voluto non l'avrebbe tenuto e chi è arrivato? Un direttore generale che ha fatto delle scelte diciamo che i dirigenti fanno le scelte di solo sì, ma le scelte sono sempre dettate in quel caso, io sono convinto ancora oggi lei mi chiede il nome del mandante perché l'ha detto lei, ha detto il mandante è un altro il mandante è sicuramente un altro perché non credo che un direttore generale si suicidi, tra virgolette perché basta pensare a quello che hanno fatto l'anno dopo la media prima era il 22%, 4 milioni l'anno dopo prendo una persona al posto mio che fa l'11% quindi è un flop clamoroso quindi se fossimo in un sistema era difficile sostituirla ma il mandante politico chi era? il mandante politico è chi gestisce il potere io non ho la certezza di chi può essere posso solo avere delle intuizioni vabbè uno come lei, insomma no, abituato a battaglie e cose ma io capisco che lei deve fare tipo no capisco, lo sa pure lei la invito a liberarsi ma lo sappiamo ma allora, non credo, ripeto sarebbe bello chiederlo all'ex direttore generale che credo si sia alzato una mattina a rivederci e grazie ma perché lei ha difficoltà a dirlo però non l'ho capito ma perché non esiste il marchio perché non è sicuro sono molto sicuro ma non mi va di dirlo si capisce benissimo dai, su vabbè, non la facevo così lei vuol fare il titolo non la facevo così timido non sono timido non timido non sono timido su sta cosa qua sono più attento hai diventato attento lei una volta litigando con Italo Bocchino che le chiedeva quanto guadagnasse ha detto io alla RAI ho dato di più di quanto abbia guadagnato allora, se andiamo a vedere le cifre che prendono ancora oggi altri conduttori sicuramente io avevo un livello molto lontano molto lontano ma a me cosa mi importa io ho sempre detto che la cosa più importante era la libertà ha dato più lei in termini diciamo d'ascolto di pubblico eccetera di quanto no? no, io credo è sempre un po' ingiusto cioè io credo di dovere tutto quello che sono alla RAI a delle persone della RAI con cui sono cresciuto come uomo e come professionista quindi oggi forse quella è la risposta un po' così io credo di avere sempre di più io a un'azienda comunque diciamo ogni anno lei chiude l'edizione di Non è l'arena con un commiato un po' strappalagrime e quest'anno sembrava più vero del solito dice sempre fa sempre un po' capire quest'anno è quello giusto anche lei capita giusto perché anche quest'anno io scado di contratto scado di contratto allora ecco appunto questo drama queen che tutte le volte lei fa è per alzare le quotazioni con Cairo oppure così? intanto Cairo è un personaggio con cui dialogare sul denaro è dura no sono soldi suoi non è come qui che sono soldi di tutti noi alla fine non sono di nessuno quindi deve fare i suoi interessi il problema è un altro io non ho mai voluto quando anche Cairo mi offerse 5 anni di contratto a una cifra importante io dissi no perché io da un punto di vista di libertà si voleva dare voglio stare tranquillo anche perché dai di più perché hai stimoli maggiori se no diventi un pensionato che firmo 5 anni però lei alla fine fa sempre un po' così ma lo fa perché c'ha la tentazione di andarsene o perché vuole alzare no no guarda sai cos'è il denaro per me è importante ma non è non è mai stata la cosa decisiva nelle scelte no le scelte sono altre oggi più che mai la libertà ha ammesso che la Rai la rivolesse che cosa dovrebbe dirle per convincerla l'ha detto lei eh cioè la dovrebbe proprio volere l'ha detto cioè l'ho detto anch'io prima è quella libertà che è fondamentale per chi fa il mio lavoro senta lei ha detto alla fine mi faranno presentare il festival di Sanremo quando avrò 76 anni come Raimondo Vianello con buona pace per tutti quindi stringa denti che ne mancano 15 no scusi no scusi mi mancano ancora quanti era e lei ha detto a 76 anni ci avrà 60 anni ah già è vero mai 61 no quasi 61 15 eh sì ma quando l'avevo detto ne mancavano molti di più ha capito mai dire mai guardi che volano 15 anni ma devo stare attento no mi auguro di essere ai Caraibi da qualche altra parte ecco cioè tranquilla questo lo fa sempre verso che ci avviciniamo alla fine del contratto ancora lo sto contratto ma firmiamolo qua ce la Rai siamo qua tre più volte è stato vicino ad andare a Mediaset poi non c'è mai andato e una volta ha detto avevo paura di fare la fine di Mastrota e vendere le pentole adesso Mastrota si arrabbia è un ottimo ricordo di quegli incontri con gli uomini di Mediaset però non c'è mai arrivato no? perché? cosa è mancato da parte loro o da parte sua c'è stato un ostacolo? no no devo dire che Mediaset aveva fatto tutto di tutto per averla no sono stati molto corretti eccetera e che poi tu devi sentirtela sentirti la cosa allora io ho incontrato Cairo ecco la cosa che mi è spiaciuta non è essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi se avessi parlato con Pier Silvio Berlusconi che ho visto molto commosso per esempio all'addio a Maurizio Costanza sì però mi ha fatto piacere perché a volte si ha l'idea di manager lontani dalla realtà ecco se ci fossimo incrociati probabilmente sarebbe stato diverso invece abbiamo parlato solo con gli alti vertici che è una cosa diversa cioè a me piace incontrare chi decide è quella la differenza è mancato quello Cairo ha parlato con me è stato un colloquio molto importante qualche mese fa diciamo è stata molto discussa la puntata che lei ha fatto in diretta da Mosca che si è collegato da Mosca con la portavoce di Lavrov in collegamento via Skype stava lì a Mosca però in collegamento via Skype con la portavoce ma dagli studi dei Paulis non lo poteva fare uguale allora capisco la sua critica però dobbiamo spiegare io vado in Ucraina e vengo attaccato perché vado in Ucraina vado a Mosca vengo attaccato si dessero una pace anche una tregua chi critica andate nel post guardate quello che succede comodo stare qui negli studi dei Paulis poi se vai fuori purtroppo ti imbatti anche in quelle situazioni il rischio è di non averne anche la carova capite? comunque diciamo che quella puntata è stata particolarmente tesa tesa era la situazione Sallusti si stranisce per la gestione se ne va eccetera lei a un certo punto si sente male a un mancamento e sviene lei però le è capitato spesso di svenire? cioè è una cosa di sentirsi male? beh in 30 anni di televisione mi è successo tre volte quindi diciamo che una al decennio insomma lì avevo no no lì avevo 39 di febbre da tre giorni evidentemente le fatiche lo stress si sono sentite e c'è stato ho fatto molta fatica quella volta e c'è stato ho fatto